Silberio Pacchioli, siamo in un vigneto. La vendemmia sta iniziando proprio in questi giorni. Già era anticipata da qualche anno, veniva intorno a Ferragosto, appena dopo Ferragosto, ma adesso siamo proprio quasi alla vendemmia. Che succede? Certo, quello che potrebbe sembrare bello, cioè fare vendemmia in estate, invece è una cosa non bella. Qui siamo in un appezzamento di Montepulciano, una cultivar che in verità dovrebbe maturare a fine settembre, in inizi di ottobre. Siamo in anticipo, direi quasi di due mesi e questo non va bene. Non va bene perché è un bambino che non ha finito il suo tempo e si possono avere poi tanti problemi in cantina. Un'uva che matura in anticipo può darci dei problemi di qualità enologiche perché sicuramente avremo zuccheri, questa sarà sicuramente un'annata di zuccheri, ma il vino non è fatto solo di zuccheri, quindi di alcol. Il vino è fatto di colori, il vino è fatto di profumi. Tutti ingredienti delicati che hanno bisogno di tempo per formarsi. La siccità è un problema grande, non è un problema di quest'anno. Dobbiamo prima di tutto capire che si tratta di un problema che ci portiamo avanti da anni, forse da secoli. Il problema grande è che non ci pensiamo. Questo cosa significa? Significa che prima o poi dovremo tutti sederci e cominciare a ragionare con interventi non tamponativi, ma interventi strutturali. Di che cosa fare? Capire inoltre che cos'è la siccità, perché la siccità dal punto di vista agronomico non è solo una mancanza di acqua. Qui siamo in un vigneto irrigato. Purtuttavia si vede che il vigneto sta soffrendo, perché la siccità è uno stress multiplo. Stricità significa carenza di acqua, significa elevate temperature, significa elevata luminosità. Oggi ci sono tanti vigneti che hanno acqua, però stanno soffrendo la temperatura ai 40 gradi, non è una temperatura della vite. Stanno soffrendo l'eccesso di luce, il problema più grande di quest'anno. E allora cosa fare? Logicamente ogni cultiva risponde a modo suo. Già in questi giorni raccogliamo le precoci, Chardonnay, Pinot e così via. Il Montepulciano è in invaiatura, ma sicuramente non è maturo. Aspettiamo ancora un abbassamento di temperatura, quindi non tutto è distrutto. Aspettiamo un abbassamento di temperatura, qualche pioggia, che ci possa migliorare la situazione. Quello che dobbiamo fare è ragionare. Sederci tutti, ragionare non solo per la vite, perché gli stessi problemi noi li abbiamo in questi giorni anche per il pomodoro. I problemi li abbiamo per l'olivo, li sentiremo ancora di più a novembre. Già veniamo fuori da una situazione critica, cattiva legagione. Quest'anno la produzione dell'olivo verrà dimezzata, letteralmente dimezzata. Questo è un dato che possiamo dire. Allora dobbiamo sederci e vedere cosa fare. Scegliere bene le cultivar, scegliere i porti innesti. La politica ci deve dare una mano a livello strutturale, fare bacini, raccogliere le acque. Quindi è necessaria l'istruzione. Noi oggi abbiamo necessità in questa regione di una facoltà di agraria. Di una facoltà di agraria che aiuti l'agricoltore e che lo istruisca su quello da fare.